ciao a tutti grazie per avermi atteso so che molti di voi e mi stanno seguendo da da parecchio tempo avrà notato che a causa di impegni lavorativi importanti non ho più postato tutorial di nessun tipo grazie per avermi aspettato e oggi ho deciso anche di metterci la faccia sapete benissimo che io nei miei tutorial tendenzialmente arrivo al dunque ma non metto quasi mai la faccia non ritengo che sia importante ma oggi volevo volevo parlarvi perché due giorni fa è uscito il nuovo logic pro 11 un aggiornamento importante aspettavamo il numero 11 praticamente dal 2013 un aggiornamento gratuito per chi è possessore di logic pro x si può comprare solo da apple store e per chi lo vuole aggiornare il consiglio che do fin da subito è quello di prima di aggiornare l'applicazione da apple store duplicatevi l'applicazione logic pro x cosicché avete il backup è legale faccio vedere quanti logic pro x ho in questo momento la 163 la 79 la 10.5 la 10.1 logic pro perché questo innanzitutto perché ho tutte queste versioni perché insegno in varie situazioni dove non tutti hanno l'ultima release è perché questa cosa qua mi permette di avere dei backup di logic quindi immaginiamo che il nuovo logic che esce è buggato io comunque ancora la versione precedente a me permette anche di testare funzioni dei miei dei miei studenti o dei miei clienti o anche di gente che mi affida i suoi progetti che non hanno l'ultima release perché vi voglio parlare prima di entrare nel merito di logic pro 11 perché è vero che un aggiornamento importante ma crea potrebbe creare dei problemi a molti di voi soprattutto a chi lo usa in maniera professionale perché ci sono delle criticità nella retro compatibilità dei progetti criticità che adesso voglio farvi vedere e affrontare con voi perché ho fatto un po un po di prove e adesso vi faccio vedere un po quelle che sono le piccole criticità che ho visto perché prima di affrontare quelle che sono le nuove funzioni logic pro 11 che sono sicuramente interessanti bisogna a mio avviso tutelarci da rovinare lavori che non possiamo più passare in giro che che abbiamo compromesso insomma guardiamo un po di casistica allora innanzitutto questo è il nostro logic pro 11 l'ho scaricato l'altro giorno ho scaricato tutti gli additional content quindi qua ho scaricato tutto il possibile ci sono mal contati 1700 apple loop in più rispetto a prima sono 37.946 apple loop in più cioè scusate 1700 in più prima erano 36.200 qualcosa adesso sono 37.900 qualcosa un sacco di suoni un sacco di cose belle c'è sicuramente nuove funzioni c'è il grammar cambiato c'è il bass player c'è il keyboard player nuove funzioni sul midi ma lo scopo di questo video non è quello di entrare nel merito della short track o del bass player o cose di questo tipo non è lo scopo di questo video quello che voglio farvi vedere è la retro compatibilità dei progetti quindi adesso cosa farò io adesso andrò a prendere dei progetti che ho fatto da addirittura la logic 9 per vedere un po cosa succede e allo stesso tempo vi farò vedere cosa succede salvandoli con logic pro 11 e quali potrebbero essere le problematiche e come risolverle allora partiamo dai progetti allora io ho un progetto qua ad esempio questo che ho fatto nel 2011 progetto che ho fatto nel 2011 adesso dovrebbe aprirmelo se guardate ho il secondo monitor su quindi portate pazienza mi dice fin da subito aprendo un progetto del 2011 i progetti creati con versioni precedenti logic non sono compatibili con logic pro questa è una cosa che avevano già visto passando da logic 9 a logic pro x io se li vado a dire di salvarmi il progetto salvanelo pure qua mi metti fold package queste cose qua fondamentalmente sono rimaste invariate se voglio copiare tutto tanto non ce n'è save e me lo apro skip all ed ecco che qua me lo apre senza nessun problema ora io ho creato prima prima inizia sto video il club progetti che adesso andrò ad aprire uno il progetto 1 che è un progetto normalissimo creato con logic pro 11 dove ho semplicemente creato le tracce che sono il producer kit il basso e il keyboard player va da sé che se io salvo questo progetto come progetto 1 e cerco di aprirlo con logic pro 10.4.8 non ce la farò provo cerco di aprirlo con logic pro 10.4.8 e il messaggio che mi salta da fuori è questo l'operazione non può essere completata perché è stato prea creato come una versione precedente il logic pro x e quindi mi si aprirà poi il mio logic pro x 10.4 con più punto 8 ma non mi permetterà di fare operazioni quello che ho notato però è che non funziona allo stesso modo se io provo a aprirlo quello 10 ad esempio quel 10.7.9 con la 10.7.9 che addirittura in questo momento qua è abilitata con rosetta riesco aprirlo riesco aprirlo con questo messaggio qua mi dice il chroma glow non c'è il mastering non c'è il piano studio bass non c'è però me li apre me li apre e quindi riesco a vedere il portano kit e tutti quei plugin che io non non ho installato ovviamente nella versione 10.7.9 e idem ovviamente con la versione 10.8.1 che l'ultimissima release cosa si può fare si può fare in questo modo qua per poter renderlo retro compatibile anche ad esempio con la 10.4.8 prendo un foglio note foglio note dove io vado a segnarmi nel mio foglio note tutto ciò che mi manca nel progetto track a livello di progetto a livello di track ad esempio so che mi manca tolto mastering assistant c quello tolgo e poi a livello di traccia qua mi manca il chroma glow lo tolgo poi qua ovviamente avrò mi mancherà anche il bass player perché comunque tolto chroma glow negli effetti è tolto bass player nei software instrument tolto tolto piano player ok qua sto lavorando con la versione logic 10.7.9 ricordo quindi siamo la 10.7.9 done quindi mi sono creato i fogli note se vado a vedere il mio mixer adesso è tutto sano la nel classic piano che devo toglierlo c'è ancora una traccia che mi avevo creato qua classic piano che mi vado a togliere adesso non vado nel foglio note di nuovo perché tanto avete capito e salvo quindi ho salvato il progetto 1 con la 10.7.9 adesso questo progetto 1 qua vado aprirlo con la versione di login 10.4.8 e mi dice che l'operazione non può essere effettuata quindi comunque ho problemi con la 10.4.8 proviamo a vedere con la 10.5.1 con la 10.5.1 e lo apre quindi mi dice attenzione questo progetto non può essere aperto con versioni precedenti ma in realtà io ce l'ho aperto e se vado a vedere il foglio note ho tutte le note che mi ero segnato quindi ecco un modo per poterlo rendere ad esempio retrocompatibile un altro modo ovviamente è quello di esportare tutto in file audio e lo è in quel caso lì io importo tutti i file audio faccio anche farlo così ci risolviamo la il dubbio sto aprendo adesso con la versione di logic pro 11 eccole qua faccio una bella esportazione di tutti i file audio me le salvo dove voglio io questo caso come la vado a salvare qui la nuova cartella progetto 1 export in questo caso qua qualsiasi cosa io abbia fatto posso serenamente aprirmi il mio logic pro 10.4.8 andarmi a creare un progetto vuoto ora io andrò a prendere e mettere le mie tracce audio quindi niente mi impedisce di far questo però ecco era per dirvi che attenzione se poi questa cosa qua la vado a salvare con logic pro 11 potrei aver problemi di retrocompatibilità quindi è meglio sempre farsi delle coppie di backup dei nostri progetti quindi nel momento in cui lavorate con progetti che hanno anche vi faccio vedere tipo questa hanno una versione di logic pro del 2011 questa sicuramente potrò aprirla con la 10.4.8 questa è una versione di logic pro 9 adesso non mi interessa vedere dove sono i file audio ma comunque solo che riesca aprirla ed eccola qua e mi sarò fatto anche una versione per aprirlo con il logic pro 11 quindi fatevi backup dei progetti ok questo qua invece lo stesso progetto aperto con logic pro 11 fatevi backup dei progetti perché altrimenti poi piangete lacrime quindi backup delle applicazioni di logic pro x di tutte le versioni che avete sempre prima di aggiornare e prima di salvare con l'ultimissima release fatevi backup del progetto perché è vero che l'ultima release di logic può sempre aprire quelle precedenti ma è anche vero che quelle precedenti non possono sempre aprire i salvataggi futuri poi per chi me l'ha chiesto perché tanti me l'han chiesto nel mio canale ogni tanto faccio i video in inglese rispondo per tutti perché li faccio anche in inglese innanzitutto perché ero docente apple certificato mi ero certificato l'undra come master trainer e di conseguenza ero abilitato a insegnare anche in inglese poi l'esame io lo diedi in inglese e feci train the trainer in inglese e poi un'altra cosa è che comunque il mio libro è stato tradotto anche in cinque lingue e mi sembra doveroso e gentile anche col mio inglese per carità italianizzato dare ogni tanto dei video tutorial anche in lingua inglese sempre con i sottotitoli quindi perché italiano perché spagnolo perché francese chiedo scusa se nel mio canale ogni tanto passo da una lingua all'altra ma in realtà è per essere un po gentile con tutti grazie per questo per avermi seguito in questo piccolo intervento e sicuramente nei prossimi nei prossimi giorni le prossime settimane cercherò di approfondire anche la short track lo splitter tutto quello che che di interesse in questo nuovo logic che ci hanno dato due giorni fa